Salve a tutti, oggi vi presento Sigismund di Tornaveni della Romania. Come si festeggia il Natale da voi? Buongiorno a tutti, sono Sigismund, come diceva la nostra amica sono di Tornaveni, è un paesino trovato nel cuore della Transilvania. Allora, la comunità rumena festeggia il Natale partendo da 6 dicembre, che praticamente è la festa di San Nicola. Come si svolge questo San Nicola? Praticamente i bambini mettono vicino alla porta le scarpe pulite e aspettano che questo santo li portano dei dolci. Chi è bravo, che è stato veramente bravo, i genitori li fa questo dono dei dolci, invece chi è poco bravo non riceve questi dolci. Invece il Natale per noi si festeggia il 24, la vigilia, quando si fa anche l'albero di Natale. Questo è, diciamo, l'albero non si fa prima, il 24, la sera del 24, quando tutta la famiglia unita incomincia ad adobare questo albero. Di solito è vivo, non questi artificiali, anche perché quello poi ti dà anche quel profumo della natura. Alla fine di adobare l'albero, capo famiglia punta la stela, proprio sulla cima dell'albero, dove poi tutti da quel momento iniziano questi festeggiamenti. Come si festeggia? Si festeggia praticamente partendo da una cucina molto ricca. Praticamente si fanno dei panettoni, si fanno dei piatti tipici in quel periodo, che praticamente c'è uno, il famoso piatto che si chiama sarmale, si tratta di involtini di verza, che all'interno si mette la carne macinata con il riso. A qualsiasi famiglia rumena vai, in qualsiasi parte del mondo dove c'è un rumeno, esiste questo piatto. Questo è proprio il nostro piatto tradizionale e, ripeto, a parte questo piatto c'è il panettone. Spesso viene fatto in casa, non questi commercializzati. Oggi, diciamo, ci sono un po' di panettoni da tutte le forme, da tutte le marche, però è molto sentito quello fatto in casa. Poi i bambini e i ragazzi vanno casa per casa a fare le canzoni di Natale. Le canzoni di Natale comunque richiamano un po' Bambino Gesù. Su tutti i testi si parlano del Bambino Gesù, della nascita. Le persone che accolgono questi bambini, che per loro è un onore ricevere questi bambini che cantano le canzoni di Natale, che da noi si chiamano colinde, poi li danno dei doni, che possono essere la frutta, diciamo, delle merendine, alcuni anche i soldi. Questa festa richiama molti rumeni a casa, in Romania, perché nonostante che noi stiamo molto bene, diciamo, in Italia, al caso mio, in altri paesi del mondo, comunque c'è quel richiamo della festa sul territorio. Oggi è bello proprio perché ci sono tante famiglie che hanno dei fili sparsi per tutto il mondo. Allora, quando loro tornano a casa, ognuno racconta la sua esperienza all'estero, porta a casa non solo, diciamo, la loro ricchezza economica, ma anche la loro ricchezza sul posto di lavoro. Per questo molti di noi sono tornati a casa proprio per festeggiare il Natale, diciamo, in una maniera molto, molto bella. Grazie a tutti. Grazie a tutti.